Io non posso sposarmi con l'età che ho, è troppo presto, perché questo è ancora un momento per divertirsi di saltare la cavallena, subito, lo chiamo subito No, no, presidente, presidente In salute e malattia, nella buona e nella cattiva udienza, finché i divorzi non lo so pare Scusi, è venuto in mente il mio primo matrimonio, quello con Silvana Mangano Che poi Silvana non si è mai fatta viva, e Mangano era un uomo anche lui